finalmente torna la juventus lo avevo scritto sul mio profilo twitter nella giornata di ieri oggi lo confermo e domani sarà certo e ufficiale al 100% quanto mi è mancata la juventus e quanto vi è mancata la juventus va bene lo ammetto quest'intro con finalmente torna la juve era soltanto per spammare il mio profilo twitter perché tanti magari non sanno che sono attivo anche lì perché sono attivo da poco lì quindi probabilmente è giusto così nel caso in descrizione trovate la possibilità il link di seguirmi anche sul mio profilo twitter e mi tolgo subito il dente mi aggancio ancora una volta al mio profilo twitter qualche giorno fa cioè quando poi gli esami strumentali hanno evidenziato come Dybala e Morata avessero due infortuni con due entità differenti post Sampdoria post sostituzioni con la Sampdoria mi ero lasciato andare a un Morata messo peggio di Dybala non me lo aspettavo e non me lo aspettavo sono sincero e oggi forse ho un po' più le idee chiare perché Paolo Dybala lo ricorderete esce piangendo dal campo e tutti in quel momento forse dopo gli esami strumentali avevamo pensato se esce così è perché mancherà col Chelsea è perché finalmente stava andando bene gli dispiace poi la lesione ce l'aveva Morata e ad oggi è più indietro Dybala a me sinceramente dispiace un sacco Allegri c'è anche scherzato su in conferenza su questa cosa dicendo in questi giorni continuavo a leggere gioca di Bala gioca di Bala ma quando probabilmente al ritorno perché è molto vicino all'andata poi sapete che quest'anno abbiamo un calendario particolare in cui il ritorno non è uguale all'andata una cosa scombinata inedita simpatica che sicuramente va monitorata e va capito se ci saranno poi delle modifiche a livello di risultati finali non lo so sono curioso mi dispiace mi dispiace proprio per quello che dicevamo prima o che quello che dicevo quest'estate lo sapete non mi sono mai nascosto dicendovi attenzione l'erede di Cristiano Ronaldo non è Moise Ken se vogliamo possiamo dire che numericamente sì può essere Ken ma saranno Chiesa Dybala doversi prendere in mano la Juventus e se nelle prime partite l'aveva fatto Dybala nelle ultime partite lo sta facendo Chiesa questo è un piccolo spoiler per dirvi che secondo me anche domani Chiesa giocherà centravanti ma arriveremo a ragionare di questo poi verso la fine del video quando vi dirò la mia probabile formazione che comunque ho già detto anche nel video di Davom e questa cosa mi ha fatto piacere perché abbiamo fatto una bella collaborazione quindi se volete andare a vedere quel video potete trovare sul suo canale l'ultimo video che ha fatto ci sono anch'io c'è anche Lello Ciacchino ci siamo tutti dispiace tanto dispiace tanto per Paolo Dybala anche in un momento così delicato di carriera tradotto il rinnovo del contratto a cifre che lo porteranno a bonus compresi intorno ai 10 milioni di euro su Dybala c'è sempre una diattriba rispondo anche a un ragazzo che l'altro giorno mi aveva scritto non ho capito perché buttato Dybala nel calderone di quelli più criticati dei tifosi più presi in considerazione avevo fatto il video in cui parlavo di Rabiot, di Ramsey, di giocatori molto pagati che poi in campo non rendono quanto ci si poteva aspettare ci tengo a dirlo pubblicamente ma chi mi segue da tanto lo sa bene io sono calcisticamente innamorato di Paolo Dybala del suo mancino del suo modo di giocare mi emoziono a vedere giocare Paolo Dybala mi esalto di più a vedere giocare Chiesa perché la cattiveria che ci mette Chiesa secondo me è qualcosa di introvabile insostituibile nel calcio di oggi quindi devo dire la verità mi emozione di più mi esalta di più in realtà vedere un giochettore da Chiesa rispetto a come gioca Dybala ma io di Dybala sono innamorato lo considero un patrimonio tecnico ed economico indispensabile per questa UE perché tante volte ci troviamo a prendere in considerazione Dybala all'interno di alcune analisi di alcune critiche che sono giuste rivolgere anche a Dybala e non ho fatto uscire un video in particolare in questo periodo proprio perché volevo aspettare il rientro Dybala rinnovo di Dybala e ficcarlo in un momento storico diverso e più vicino a quello che spero possa accadere presto cioè tradotto i giocatori più decisivi nella fase finale della Champions League ed è lì secondo me la grande critica che si può muovere a Dybala e ultimamente purtroppo proprio a causa di questi suoi problemi fisici e lo vedrete anche in quello stesso video Dybala sta iniziando a diventare un giocatore meno affidabile dal punto di vista atletico questo va detto con grande chiedezza lo dico davvero da da supporter di Dybala perché a parte che è bruttissimo dover mettere le mani avanti e dire sono un tifoso di un giocatore della Juventus veramente brutto però so che è necessario perché in questo momento c'è una forte lotta una forte guerra una forte divisione intorno al nome di Dybala come c'è sempre stato intorno al nome di Allegri e rivolgere una critica a Dybala senza specificare che comunque lo supporto mi potrebbe dipingere in un'altra maniera quindi lo dico proprio tranquillamente io credo che Dybala sia indispensabile per questa Juve che perde Cristiano Ronaldo non può permettersi di perdere anche un giocatore come Dybala a meno che poi tutti gli altri non vadano a overperformare però sotto il punto di vista atletico purtroppo negli ultimi anni proprio nel recente passato Dybala sta diventando poco affidabile Morata invece potrebbe essere a disposizione Allegri secondo me ce l'ha fatto capire bene che c'è ma non c'è da titolare anche perché ricordiamoci che abbiamo sette partite in 21 giorni sette partite in 21 giorni non è qualcosa di assurdo di illogico soprattutto dopo due settimane in cui siamo stati completamente fermi a causa delle nazionali poi abbiamo delle partite difficili perché adesso abbiamo la Roma poi abbiamo lo Zenit poi abbiamo l'Inter e sono tre partite che ci proveranno la febbre ci diranno chi siamo perché al termine di questa settimana ragazzi capiremo davvero questa Juve quanto squadra quanto gruppo quanto forte è per cosa può lottare per cosa possiamo iniziare a proiettarci a pensare per il futuro per questa stagione poi arriverà magari la pausa ancora di novembre che Allegri ha etichettato come quello il vero obiettivo proprio per capire dove siamo e per cosa possiamo sognare e se saremo messi bene il mercato di gennaio ne abbiamo parlato nell'ultimo video caricato sul canale potrebbe venirci a dare una mano potrebbe correre a nostro aiuto dicevo Morata secondo me non giocherà dall'inizio ce l'ha fatto bene o male capire Allegri e secondo me ci ha fatto capire che non giocherà dall'inizio nemmeno Moise Ken dicendo che se non c'è Morata allora devo andare su Ken se no c'è Chiesa Centravanti cosa che penso avverrà e poi dimenticando se lo fa ah e poi c'è anche Caio Orghe Giorgi Giorgi scusate sapete che ormai devo abituarmi appunto sui brasiliani Artur e Caio credo che non partiranno titolari domani credo che Allegri capendo come è fatto Allegri sapendo come è fatto Allegri l'inserimento di giocatori che non ha mai avuto e che vengono entrambi da un infortunio sarà più lento e graduale non dico che non giocheranno nemmeno un minuto domani con la Roma dico che potrebbero entrare a partite in corso a patto che vadano a concretizzarsi alcune cose che è in testa Allegri e come vi dicevo non so quanto possa essere fattibile un centrocampo a due Locatelli e Artur senza il terzo che era più per creare un centrocampo a tre quando è necessario Allegri ce l'ha fatto capire domani gioca Bernardeschi e grazie al pifero direte voi e ci ha fatto capire anche che McKennie non sarà titolare dal primo minuto ormai la formazione è fatta come ci ha fatto capire che gioca De Ligt ci ha fatto capire che gioca Bonucci anche se Chiellini sta bene e anche Rugani un po' come Caio per farci capire le gerarchie quelli non sono titolari quindi Bernardeschi che Allegri dice essere completamente recuperato a livello mentale ma che adesso deve dare continuità oh attenzione perché fino adesso a Bernardeschi c'era stata tanta carota ora c'è il bastone nei confronti del Berna perché ha capito che è a posto a livello mentale ma che non è più sufficiente il compitino e quante volte ci siamo detti Bernardeschi questo può fare e ci accontentiamo del compitino da parte uno come Bernardeschi che in tanti anni non ci ha dimostrato chissà che cosa a onora del vero le migliori stagioni di Bernardeschi sono state proprio con Allegri in panchina la prima stagione era Juve la prima stagione di Ronaldo poi un declino incredibile nelle stagioni tra Sarri e Pirro roba che ha fatto un gol mi pare o due gol in due anni una roba vergognosa e ora tornato con Allegri in questa prima parte di stagione sembra un giocatore non dico recuperato per essere titolare ma recuperato per essere una riserva, una seconda linea e in questo momento in cui c'è necessità perché Rabiot è fuori per Covid Bernardeschi sarà un titolare probabilmente anche in Champions League contro lo Zenit e non basta più la carota e ora di usare il bastone un Allegri carico devo sottolinearlo devo metterlo bene in chiaro perché c'erano stati dei problemi a livello personale in questi giorni saprete tutti la sua rottura con Ambra Angiolini gli hanno fatto pure la domanda in conferenza stampa è stato bravissimo a scappare da questa domanda e allora per concludere questo video e finalmente torno alla Juve lo dico ancora una volta quale sarà la formazione titolare di questo Roma-Juventus anzi Juventus-Roma perché giochiamo a Torino io ho ipotizzato questi 11 ma voglio sapere la vostra formazione probabile titolare qui sotto nei commenti Cesne in porta Alexandro e Danilo destra e sinistra Danilo tra l'altro non ha giocato nella sfida contro il Brasile Alexandro sì ma comunque lo vedo titolare non dovesse esserci Sandro potrebbe esserci uno tra Pellegrini e De Sciglio mi aspetto anche già De Sciglio a sinistra ve lo dico proprio tranquillamente Delita e Bonucci in mezzo Locatelli e Bentancur in mezzo a centrocampo e secondo me paradossalmente Bentancur in questo momento con rabbio fuori e con McKennie che Allegri ci ha fatto capire avere altre caratteristiche lo vede in un modo completamente diverso rispetto a Bentancur e Arthur che come vi dicevo recupererà pian piano per entrare nelle rotazioni ecco diventa un insostituibile al pari di Locatelli Bernardeschi quadrado sugli esterni Allegri ci ha detto la Roma è una squadra scomoda antipatica contro cui giocare perché va in verticale quindi vorrà chiudere tutte le linee di passaggio ed ecco perché vi metto Kuluseschi sulla tre quarti è esattamente il ruolo che faceva fare Kuluseschi a Pirlo anche contro l'Inter quando siamo andati a San Siro a Markar Brozovic a Uomo e ha funzionato alla grande quindi immagino la stessa cosa su Vere Tuo Cristante a rotazione su due centrocampisti la Roma o anche solo per seguire Pellegrini quindi Kuluse potrebbe abbassarsi sulla linea di centrocampisti e formare con Locatelli e Bentancur un centrocampo a tre e Chiesa centravanti per giocare ripartenza in verticale questa credo che sia la chiave tattica di Allegri questa credo che sia la partita che ha preparato Allegri poi ovviamente ci sono alcuni ballottaggi che potrebbero venire fuori ma secondo me ci siamo molto molto vicini mi tengo ancora a McKennie come potenziale titolare che potrebbe essere inserito proprio tra le linee nel ruolo di Kulusevski ma ho questo sentore che giocherà a Kulu dell'inizio poi magari giocano Morata e Ken e Chiesa gioca al posto di Quadrado e questa roba non va più bene ma penso che Allegri l'abbia preparata in questo modo concludo con una cosa che non mi è piaciuta della conferenza stampa di Allegri e sapete che anche qua lo devo dire se sto discorso per Di Vala io supporto Allegri lo considero un buon allenatore lo considero un vincente sono contento che sia tornato bla bla tutte le cose se però Allegri quando gli hanno fatto la domanda dell'ultima partita che ha giocato contro Mourinho quindi a Manchester anzi allo stadium contro il Manchester United poteva per quanto mi riguarda risparmiarsi quell'uscita sul però quella è stata una delle migliori partite che abbiamo giocato con la Juventus in Champions e nessuno se la ricorda io quella partita non la ricordo benissimo abbiamo giocato veramente bene abbiamo perso questo è vero e sapete bene che per me giocare bene giocare male non me ne frega niente l'importante è che arrivi il risultato io sono un risultatista ecco faccio questo coming out come ho già detto anche nelle scorse settimane non vorrei che Allegri stesse diventando un pochino schiavo o prigioniero del suo personaggio al pari di Adani perché tutte le volte che sento parlare Adani mi sembra di sentire delle continue frecciatine ad Allegri non vorrei che Allegri ricominciasse invece a fare delle continue frecciatine ad Adani perché non siamo all'asilo so che in realtà queste cose avvengono molto più di frequente di quanto si possa immaginare quindi Max va benissimo le risposte le diamo sul campo le frecciatine le lasciamo poi agli arcieri o quelli che giocano a freccette al bar dopo aver bevuto qualche birra l'ultimissima cosa spoiler ve lo metto qua e poi lunedì vi dico anche qualcosa in più vi dico solo che sono felicissimo e che è il primo passo l'ultimissima cosa è il primo passo è il primo passo